Buon pomeriggio, ben trovati al consueto appuntamento pomeridiano con le notizie dal web della città, il sole culturale, vediamo subito che cosa ci riserva questo venerdì sera, partiamo con la musica, gli Zen Circus arrivano all'Apsus questa sera per il Torino Best Soundtrack Awards, la categoria in gara questa sera è la colonna solora, dopo la visione dei tre video finalisti si esibiranno appunto gli Zen Circus Bell di Pisa con il loro punk and roll in salsa folk a partire dalle ore 22.30. Lettura ad alta voce per bambini invece quest'oggi alle 17.30 alla biblioteca civica Mirafiori, un venerdì da favola con appuntamenti che continueranno ogni venerdì fino al 17 dicembre, e finiamo con il teatro, celebre commedia di Pirandello portata in scena da Franco Pini e Chiara Salerno, molto rumore per nulla, a proporre il teatro Erba questa sera alle 21, vi ricordo che oggi pomeriggio uscirà l'ultimo numero di Torino Web News, l'abbiamo girato all'archivio di Stato per una mostra interamente dedicata alla storia d'Italia attraverso le caricature più celebri. Ringrazio Paolo Mosso per la mossa di Londra, ci vediamo lunedì alle ore 17 circa con le notizie dal web della città edizione culturale. Ringrazio Paolo Mosso per la mossa di Londra, ci vediamo lunedì alle ore 17 circa